Mi chiamo Matteo Piccarazzi, conosciuto come Dread sul web, sono qui per la seconda volta perché ho un processo e una condanna alle spalle che secondo me è troppo dura soprattutto in questo secondo appello perché la condanna è stata aumentata nel mio primo processo sono stato condannato a tre giorni di isolamento a tre giorni di allontanamento perenne dai servizi online social derivanti dal Playstation Network per colpa di una stupidissima e inutile illazione che ho mandato ad un piccolo bambino e io me repento! Oggi sono qui perché i giorni... perché è ricapitato? È ricapitato. Sono di nuovo qui perché i giorni sono diventati sette. Sono stato ribannato per sette giorni. Vuol dirci di cosa è incolpato? Certo, assolutamente. Quello che ho scritto è stato I hope you wake up tomorrow in a coffin. Però mi sembra che non ci sia fermato qui o sbaglio? E ho scritto anche wake up cold tomorrow. Scusi, e cosa significano queste frasi? La prima frase significa spero che tu ti svegli in una bara e la seconda significa però non credo che l'inglese lo consenta di scriverlo però comunque il mio intento era sveglia di freddo ecco, sì, sveglia di freddo, sveglia di freddo, sveglia di freddo, sì. Wake up in a coffin, wake up cold. Qui non stiamo parlando di sciocchezze o no? Io non volevo assolutamente scrivere questa cosa. Non la pensavo. Non è stata una cosa per me giusta da fare. Sono molto pentito, signor giudice. La prego. Poi mi sembra che lei abbia anche provato a contattare il supporto PlayStation. Sì, sì. Io ho provato a scrivere al supporto PlayStation. Perché me lo chiede? Vuoi dirmi cosa ha scritto al supporto PSN? Certo, glielo posso assolutamente dire. Al supporto PlayStation ho scritto... Ho spiegato il mio problema. Poi quando ho ricevuto la risposta, diciamo, che è stata non posso fare niente. Poi mi è stato scritto cosa posso fare per lei. E io gli ho detto fammi parlare con uno intelligente. Stavo parlando con un operatore, ovviamente. Ho detto fammi parlare con uno intelligente. E mi fa non posso fare niente. E allora ho risposto al supporto PlayStation. Gigi, compro Xbox. Scusi, però questa è una cosa abbastanza grave da dire. Se io però ho queste manette, signor giudice, è perché sono vittima del sistema. Sono vittima di una condanna ingiusta. Lo dico qui al microfono. Sono vittima di una condanna ingiusta. E io, con queste manette, che non posso togliere, sono dalla parte di tutti i videogiocatori. Perché non è colpa nostra. Lo ripeto. Non è colpa nostra. La colpa è degli sviluppatori, sì. La scorsa volta era per colpa di IFC e capisco. Non mi dica che è recidivo, di che parliamo? No, no, questa volta è su Call of Duty. Sì, è colpa degli sviluppatori di Kodan. Hanno messo troppe cose che ci fanno arrabbiare. E io non ho retto la pressione, signor giudice. Non ho potuto fare a meno di scrivergli che sperassi che il suo letto fosse una bara. Che i suoi documenti diventassero di marmo. Non ho potuto fare a meno di scriverlo, signor giudice. Io sono assolutamente consapevole della condanna. Ma la mia condanna è la condanna di tutti i giocatori. Se lei condanna me, sta condannando un'intera generazione. Ai miei tempi, io potevo tranquillamente scrivere il cazzo che mi pareva. Poi da un momento all'altro sono diventati tutti piagnoni che non gli puoi più scrivere niente. Neanche I hope you wake up in a coffin. Ma che ti ho detto? Ti ho semplicemente augurato di svegliarti, quindi neanche di morire, ma di svegliarti all'interno di una confortevole bara. Dovrebbero cambiare le regole del PSN. Io sono qui per far cambiare le regole del PSN. Non è possibile che siano così restrittive. Fate delle regole, fate delle regole, signor giudice, mi scusi. Ma bisogna fare delle regole ad hoc per ogni videogioco. Stai giocando a My Little Pony? Va bene, non ti posso scrivere I wake up in a coffin. Ma se sto giocando a Call of Duty e davanti a me ho un panzone barbuto ubriaco che ha a fianco a sé 14 sigarette. Ma glielo potrò scrivere? Ma me lo potrò permettere di scrivergli una piccola, insignificante minaccia? Perché voi non potete, non mi fermerete. Non mi fermerete. Non lo scrivo più sul PSN. Va bene, li trovo su Instagram. Glielo scrivo su Instagram. Mi faccio bannare da Instagram, non è un problema. Mi faccio bannare dappertutto. Signor giudice, io quello che sto cercando di dirle è che la condanna è assolutamente ingiusta. Soprattutto perché era molto peggio quello che ho precedentemente scritto neanche due settimane fa. Cioè, I hope you wake up tipo cold like your mother o una cosa del genere. E per quel reato, tre giorni, per I hope you wake up in a coffin, sette, la mia condanna finisce il 13 novembre. Ora lei mi dica, io devo prestigiare su COD, fare le mimetiche su COD, devo fare un sacco di roba su COD. Ora lei mi spiega, io fino al 13 novembre. Come faccio? Sono sei giorni. Io ieri guardavo il muro e dicevo, ma che cazzo gioco? Non potevo giocare a niente. Non potevo giocare a nulla. Perché ripeto, se lei per caso viene bannato dal PSN, non solo viene bannato, non solo non può accedere al multiplayer, ma non può neanche accedere ai giochi che ha giustamente e legalmente scaricato all'interno della sua console. Perché la console PlayStation 5 non riesce a leggere le licenze se non si può connettere online. Ma le pare normale. Va bene, non farmi giocare multiplayer, ma fammi giocare... Boh, qualcosa. Ghost of Tsushima. Io sono un martire, brucerò in piazza. Trovo ingiusto il non poter scrivere più una minaccia all'interno dei messaggi privati del PlayStation Network. La Corpia ha deciso che la condanna di sette giorni è confermata. Signor giudice, ci rivedremo. Ci rivedremo, signor giudice. Non fin... Non finisce qui.